Benvenuti. Vi presentiamo un'opera letteraria che promette di farvi viaggiare con la fantasia. Un tuffo nel passato con, Odolina la fanciulla rinchiusa nella torre, di Sonia Testa. L'autrice ci trasporta nel Medioevo e ci racconta la storia di una bellissima fanciulla e ci fa scoprire personaggi dimenticati. Seguiteci così insieme conosceremo i protagonisti. Che succede qui? Non dimenticate che io sono il signore di queste terre, e ogni cosa su cui cade il tuo sguardo, è mia. Grazie a voi tutti per il supporto e l'affetto. Ricordo che il romanzo è disponibile su tutti i maggiori store online. Anche in inglese e francese. A breve uscirà con la nuova cover anche nelle librerie.